Mentre l'estate televisiva si accende con il ritorno di, Temptation Island, una novità interessante collega il reality delle tentazioni a un altro colosso dei programmi tv, il, Grande Fratello La notizia, divulgata dal settimanale, chi, suggerisce un legame intrigante tra i due show, con un personaggio misterioso che passerà dalle spiagge della Sardegna alla famosa casa di Cinecittà Recentemente, Maria De Filippi ha trascorso circa due settimane in Sardegna per le riprese della nuova edizione di, Temptation Island, portando a termine la produzione di sei episodi in un tempo record di poco più di dieci giorni Questo periodo intensivo di lavoro non solo ha segnato la preparazione del reality show, ma ha anche gettato le basi per una sorpresa imminente Da Temptation Island al GF La Pedalata è breve, ha rivelato azzurra della penna. Lasciando intendere che un volto noto delle recenti registrazioni a Santa Margherita di Pula farà presto il suo ingresso nel, Grande Fratello Questo annuncio ha suscitato curiosità e speculazioni su chi potrebbe essere il protagonista di questo passaggio televisivo La stagione estiva di, Temptation Island, promette di essere l'inizio di un viaggio che ci porterà fino a settembre Quando, secondo, chi, qualcosa, qualcuno, magari, che si è visto transitare su queste spiagge, farà il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia La domanda sorge spontanea. Chi sarà a bussare alla porta rossa del, Grande Fratello Il legame tra i due programmi rimane avvolto nel mistero. Un mistero che Maria De Filippi sembra custodire con un sorriso enigmatico Alfonso Signorini, a capo del, Grande Fratello, potrebbe rispondere alle curiosità con il suo tipico, alla prossima, mantenendo alta l'attenzione e la suspense Potrebbe essere uno dei protagonisti dell'attuale edizione di, Temptation Island, a fare il grande salto? Forse una figura che ha particolarmente colpito Maria De Filippi o, addirittura, si tratterà del conduttore Filippo Bisciglia stesso? Le prossime settimane saranno cruciali per svelare il mistero e capire meglio come si intrecceranno le storie di questi due popolari reality show Grazie a tutti!